Siamo ovviamente con due persone importanti della FISCAM della Lombardia. Presentatevi e raccontateci quello che avete fatto quest'anno in Lombardia. Buonasera, maestro Rinaldi, presidente FISCAM Lombardia. Buonasera, sono Tore Poggi, vicepresidente FISCAM Regione Lombardia. Allora, quest'anno quanti eventi avete organizzato FISCAM Lombardia? Tantissimi, sedici, non soltanto a Milano, che è la nostra patria in quanto insegniamo a Cinisello Balsamo e abbiamo il monopolio di diverse palestre, ma soprattutto abbiamo potenziato la zona di Mantua e Cremona, in particolare il centro di Cremona, che è una grande soddisfazione in quanto è un terreno che secondo noi è molto fertile. Allora, quest'anno sono state messe le premesse per il lavoro futuro. Mi dicevi che già riprenderete con degli eventi molto interessanti già a ottobre. Parliamo del calendario. Il calendario è bellissimo, oltre che molto spedito. Siamo già partiti il 23 settembre con il trofeo di Cremona, dove abbiamo ottenuto un successo inaspettato. La piazza era piena di gente e adesso partiremo il 13 ottobre con Fight Warriors, il 14 ottobre con il trofeo di Cinisello Balsamo con tre cinture lombarde, il 28 ottobre incominciamo le tappe, prima tappa cintura lombarda, sempre l'officina birra, il 11 novembre e il 25 novembre. Quest'anno finiremo con queste date. Il nuovo anno daremo tante date, da già partire da gennaio, che non vogliamo svelare in quanto i nostri concorrenti forse si spaventerebbero troppo. Diciamo che finiamo in bellezza e rincominciamo alla grande. Innanzitutto saremo presenti ai vostri eventi per intervistarvi e soprattutto per essere sul campo e filmare piuttosto che intervistare gli atleti che combatteranno nei vostri eventi. È un onore oltre che un piacere. Dopodiché diamo qualche indirizzo o qualche sito internet per contattarvi e per avere maggiore informazione. Guarda, visto che ormai tutti siamo su Facebook, se andate su Timebox Liceum, che è la società che abbiamo creato noi, il primo passo di due grandissimi appassionati, potete trovarci. Timebox Liceum. Perfetto, grazie per l'intervista e ci vediamo al prossimo evento. Grazie a te Mauro. Ciao. Grazie.